Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi è Match Day e quindi i video del Match Day sono quelli che sono sempre un po' più carini da fare perché andiamo a immaginarci quello che può essere. Poi ovviamente ci sono le probabili formazioni, ci sono le indicazioni che i giornalisti hanno ricevuto dalle loro fonti e già da ieri iniziava a circolare una probabile formazione. Io riporto quella di Giovanni Albanese che diceva Perin, Savona, Danilo, Calulu, Cabal, Meccenni, Fagioli, Douglas Luiz, Konsei, Sauv, Laovic e Ildis per quello che sembra essere un 4-3-3 come abbiamo visto anche con l'Alazio. Allora, analizziamo la formazione. Tanto Perin importa. Il motivo di Gregorio è squalificato, era stato espulso ovviamente con Illipsia, quindi la Juventus che aveva compiuto un'impresa con un giocatore in meno vedeva proprio di Gregorio espulso in quella partita. Perin ieri ha fatto la conferenza stampa insieme a Tiago Motta. È stato un ottimo Perin. Ho veramente apprezzato il modo di parlare di Mattia che questa sera sarà in campo con la Juventus. Savona. Perché non gioca Cambiaso? Turnover immagino. Credo che questa sia un pochettino la risposta. Nel senso che Cambiaso è uno di quelli che fino adesso non aveva praticamente mai riposato o veramente poco perché anche nella partita in cui aveva riposato poi è subentrato. Nel finale. Cosa che tra l'altro mi aspetto anche stasera perché Cambiaso mi sembra uno di quelli che non può assolutamente essere visto come giocatore che si riposa e basta. E credo che anche con la Lazio abbia un pochettino dimostrato di aver bisogno di rifietare. Domenica c'è l'Inter. Non dimentichiamoci questa cosa. Quella è la partita di campionato che dobbiamo andare assolutamente a non sbagliare perché la Juventus non può permettersi di sbagliare quella partita di campionato lì. Anche perché inizia a essere veramente un campionato che entra nel vivo ed è uno scontro diretto importantissimo di una delle squadre insieme alla Juventus che sta cercando di staccarsi un pochettino dalle altre. Secondo me Juve, Napoli, Inter saranno quelle che faranno un po' il solco dietro le competitor ma dipende anche da partite come questa. Quindi credo che la scelta di Tiago Motta di far riposare Cambiaso per Savona sia correttissima. Così come di far riposare Gatti al posto di Danilo che tornerà titolare per la Champions League. Vestirà ovviamente la sua fascia da capitano sul braccio sinistro. Ieri Cambiaso era stato uno di quei giocatori nominati in conferenza stampa e mi ha chiesto può essere ancora capitano. Io stesso avevo detto secondo me Cambiaso in caso di presenza dal primo minuto e di assenza di Danilo sarà ancora il capitano. In questo caso dovremmo avere proprio la situazione opposta e cioè Cambiaso a riposo e Danilo titolare con appunto la fascia da capitano sul braccio di Danilo che è il capitano a tutti gli effetti. Calulu che mi sembra veramente il giocatore insostituibile in questo momento ma ha maggior ragione dopo l'infortunio brutto di Bremer. Infatti torniamo in Champions per la prima volta senza Bremer nei convocati perché proprio nella partita precedente aveva riportato la lottura del legamento crociato con conseguente operazione di inizio della fisioterapia. Quindi lo aspettiamo presto. E Cabal che è stato il migliore in campo secondo me a pari appunto di Calulu nella partita con l'Alazio. Sono contento che Cabal sia tornato un po' fuori dalla naftalina dove era stato in queste ultime partite perché noi abbiamo necessità di inserire altri terzini nelle rotazioni. Soprattutto giocatori come Cabal che danno tanta spinta e potrebbero aiutare Ildis a staccarsi un pochettino da quella posizione di intermedia tra A e la trequartista. Insomma Ildis non può prendere l'ampiezza come fanno altri esterni e quindi abbiamo necessità di giocatori come Cabal. McKennie che torna dall'affaticamento e quindi si riprende il posto da titolare. Questa cosa non mi stupisce perché McKennie è il titolare del centrocampo della Juventus oggi. Si è ripreso la Juventus, si è conquistato la fiducia di Tiago Motta quindi assolutamente McKennie se sta bene gioca. Ormai questo è un dato di fatto. Con Fagioli preferito a Locatelli. Credo che sia anche corretta. Sulla carta oggi secondo me Fagioli è molto più adatto rispetto a Locatelli per giocare in quella posizione lì. Anche se io Fagioli davanti alla difesa non lo vedo al massimo della sua espressione. Secondo me è un giocatore che come Mezzala può fare decisamente di più ma nel calcio di Tiago Motta dove le Mezzali sono molto larghe secondo me vai a perdere un pochettino quella che è la capacità di Fagioli di essere veramente abile nel palleggio, nell'inserimento, nel passaggio filtrante, nell'imbucata, nella gestione comunque totale del pallone. Quindi nel calcio di Tiago Motta credo che sia molto più adatto a giocare davanti alla difesa anche perché ha una velocità di esecuzione maggiore rispetto a quella di Locatelli che sicuramente sta facendo una buona stagione Locatelli, sicuramente una stagione in crescendo rispetto a quelle in cui l'abbiamo visto protagonista con la maglia della Juventus. È un Locatelli ritrovato ma dal punto di vista della velocità di esecuzione ancora pecca tanto perché è un giocatore più lento rispetto a Fagioli sia nell'esecuzione sia anche nel pensiero. Può crescere sicuramente, non credo che possa arrivare ad essere come Fagioli ma ha altre caratteristiche anche dal punto di vista difensivo Locatelli dà sempre una gran mano, un grande apporto. E Douglas Lewis che se va a panchinare davvero Locatelli e Turam, se questa formazione dovesse essere confermata un po' magari per il turnover di cui parlavamo prima in vista dell'Inter perché non credo di vedere Douglas Lewis titolare con l'Inter in campionato ma questa ovviamente è soltanto la mia umile opinione, poi vedremo se stasera Douglas Lewis farà una partitona e andrà a conquistare Tiago Motta c'è caso che lo vedremo titolare, immagino che sia più per tenere Locatelli e o Turam un po' più freschi in vista del derby d'Italia. Però confermato quindi fiducia in Douglas Lewis che parte titolare per la seconda volta consecutiva dopo la gara con la Lazio la richiesta che faccio veramente a Douglas Lewis al di là di tutte quelle che possono essere le lacune tecnico-tattiche eccetera eccetera è di concentrazione perché, ripeto, con l'Ipsia secondo me c'è poco da imputare al giocatore col Cagliari tanto, con la Lazio secondo me non era il cartellino rosso ma se liti dal cartellino rosso cosa fai? C'è solo da star zitto quindi abbiamo poi rischiato anche in quell'occasione ma ho già spiegato la mia posizione quindi gli chiedo soltanto concentrazione e tranquillità è l'unica cosa che veramente mi importa per Douglas Lewis in questo momento con Seissau che torna dalla squalifica preferito quindi a tutti gli altri esterni a disposizione della Juventus in questo momento che sono ben cambiaso che deve riposare e Weah che torna all'infortunio aspettando ovviamente Nico González che sarà un giocatore importante perché la Juventus ha puntato tanto su Nico González e in questo momento l'abbiamo utilizzato troppo poco anche se è proprio l'unico gol segnato dall'argentino in questa stagione con la Juve è in Champions League nella gara inaugurale contro il PSV e poi Vlaovic che sta canovista ormai le dovrà far tutte al pari di Ildis che poteva riposare per Bangula ma oggi Bangula è un giocatore che sicuramente non ha la capacità di Ildis non ha anche, sembra paradossale dirlo, ma l'esperienza di Ildis anche a livello internazionale perché Ildis è un giocatore che con la nazionale ha fatto l'europeo che con la Juve sta giocando in Champions ha già fatto gol quindi giocatore che in Champions con questi palcoscenici secondo me Ildis si sente un po' più a suo agio Bangula avrà necessità di crescere quindi tutto sommato credo che sia una formazione giusta anzi penso la migliore formazione possibile da fare con un occhio di riferimento, un occhio di riguardo al derby d'Italia e allo stesso tempo cercare di mantenere la competitività di questa formazione perché lo Stoccarda sì non sarà l'avversario più temibile del mondo in Champions League ma i tre punti sono fondamentali da fare già questa sera per cercare di metterne altri tre in saccoccia arrivare a quota nove in tre partite ed essere belli, belli, tranquilli, pimpanti e sereni quindi complimenti a Tiago Motta perché se questa sarà la formazione tornerà assolutamente il mio gusto che giustamente Tiago Motta dirà è a me che cacchio me ne frega giustamente però tutti abbiamo diritto a delle opinioni la mia opinione è che questa sia la formazione migliore per cercare di far riposare alcuni giocatori chiave come Cambiaso, Gatti, magari lo stesso Turam o Locatelli se l'idea è di averlo per il derby d'Italia e allo stesso tempo cercare di far giocare una formazione di ottimo livello secondo me nonostante l'essenza che abbiamo con Mainers, Nico eccetera eccetera questa è comunque un'ottima formazione quindi archiviato un pochettino l'analisi della propria formazione che abbiamo appena concluso io voglio arrivare a una tematica che mi state continuando a riproporre nei commenti e io di tanto in tanto quando ho la possibilità di rispondere ai commenti io leggo tutti i commenti poi non riesco a rispondere ovviamente a tutti i commenti ma li leggo tutti e di tanto in tanto vado anche a rispondere però questa è una tematica che mi state continuando a chiedere io sto continuando a rispondere nei commenti ho deciso di rispondere in video una volta per tutte in modo da semplificare questa cosa poi so per certo che non funzionerà però ci provo ci metto la mia buona volontà ed è la seguente ieri Gabriele mi ha lasciato questo commento dicendo questa sera su Re3 pare che Giletti affondi nuovamente questa volta più sul Milan così dice lui con grossa novità caro Luca a noi la maggior parte dei tifosi l'argomento Curve Inter interessa molto ci chiediamo perché non ne parli brutta cosa bruttissima allora Gabriele tanto ti ringrazio ovviamente per il commento per essere stato molto educato nell'esporre il tuo pensiero e nel porre la domanda io però di questa cosa ho già parlato ho già fatto un video sull'argomento che nel giorno in cui bene o male è scoppiata tutta questa bolla relativa alle curve degli Ultras ho portato le mie considerazioni all'interno di quel video dove spiegavo ma l'ho sempre detto che a me interessa più su questo canale che è improntato sul calcio giocato e sulla Juventus parlare di calcio giocato e Juventus poi quelle sono tematiche che vanno affrontate per forza di cose perché sono tematiche importanti tematiche che spostano nel nostro calcio tematiche influenti all'interno della nicchia della Serie A per forza di cose stiamo parlando di cose molto ingombranti e di cose sì molto brutte concordo ma questi sono già pensieri che avevo espresso all'interno di quel video mi pare che da quel giorno non ci siano stati grandissimi sviluppi poi è ovvio che per fare audience lo stesso Giletti può annunciare cose grosse io ho letto che è stato toccato l'argomento ieri sera su Rai3 da Giletti in cui è stato interpellato anche Tardelli Tardelli si è rifiutato di rispondere dicendo io non sono un carabiniere sono un calciatore non dico di essere d'accordo con Tardelli perché comunque un'opinione è giusto darla se sei presente all'interno del programma come ospite ti fanno una domanda su quell'argomento non è che puoi dire non sono un carabiniere sono un calciatore che è giustissima come lettura tradotto non sono io che devo risolvere queste robe però la tua lettura la puoi dare la mia è spiegata in quel video la riassumo brevemente cioè che ovviamente le società sono parte l'ESA se ci sono dei tifosi che ricattano ma se le società non denunciano e decidono di collaborare fanno orecchie da mercante si tappano gli occhi e dicono ah sì non si poteva fare questa roba quando si sa benissimo che non si può fare allora di parte l'ESA non si può parlare ora lasciamo andare avanti le indagini perché io credo nella giustizia e mi auguro che la giustizia arrivi al suo punto intanto queste persone vanno tolte sono state arrestate e già questo è un passo avanti la Juve ha pagato la Juve ha pagato anche dal punto di vista mediatico perché ci sono state tantissime persone che associava la camorra alla Juventus così semplice quando è stata la Juventus a denunciare e le società dovrebbero prendere esempio dal coraggio che ha avuto la Juventus dal coraggio che ha avuto Agnelli e sono state ripercussioni pesanti per la Juventus per Agnelli e anche per lo stadio della Juventus per il modo di vivere il tifo della Juventus dove la Juventus ha denunciato e non è arrivato tutto al seguito di un'indagine che è scoppiata con omicidi non omicidi eccetera eccetera una bolla che era destinata a scoppiare però da quel punto da quel momento in cui abbiamo analizzato questa roba in cui abbiamo detto quelle cose dal punto di vista delle informazioni davvero impattanti non mi pare che si sia andati particolarmente avanti oltre al fatto che io dal punto di vista giuridico non sono ignorante di più sono una capra e già ho fatto una fatica tremenda quando si parlava semplicemente di andare ad analizzare il codice di giustizia sportivo quando si era parlato tra Juventus un anno e mezzo fa e tutta la storia degli stipendi le plusvalenze un periodo terrificante che spero non possa non tornare mai più dal punto di vista del racconto sportivo che dovrò portare poi sul canale perché è una roba che mi ha annoiato in una maniera assurda e mi ha tolto il calcio perché quell'anno lì non si parlava di calcio lato io bisogna parlare soltanto di punti messi di punti tolti veramente mi viene il vomito solo a pensarci in questo momento quindi non è che non ne parlo ne ho già parlato semplicemente non credo che ci siano aggiornamenti da quel punto di vista e sicuramente arriveranno degli aggiornamenti perché non può finire con un nulla di fatto a un certo punto bisognerà arrivare a capire esattamente cos'è accaduto lì ci sono stati dei tesserati inter che hanno parlato con i tifosi che hanno avuto anche delle conversazioni continue nel tempo con queste persone e quindi bisognerà per forza arrivare a un punto e quando arriveremo a quel punto perché ci si arriverà perché ci si deve arrivare perché è logico che ci si arrivi dal punto di vista della giustizia ne parleremo prima credo che non abbia veramente intanto benché minimo senso perché ripeto di informazioni rilevanti davvero rilevanti non mi pare ne siano emerse quando emergeranno ne parleremo e soprattutto questo canale preferisce parlare della Juventus e del campo poi è ovvio che quando ci sono delle notizie così impattanti non si può far finta di niente vanno analizzate che sia la Juve l'Inter il Milan il Napoli la Roma la Lazio la Fiorentina quello che volete voi tutte ovviamente tutte le squadre se si parla di cose così importanti così larghe che possano andare a modificare la struttura della Serie A o che comunque dal punto di vista del risalto mediatico hanno spazio saranno sempre affrontate se mi chiedete un video al giorno un aggiornamento una rubrica quotidiana di aggiornamenti su quello che invece riguarda la curva dell'Inter la curva del Milan ve lo dico subito non accadrà non avverrà perché uno ripeto non mi pare che ogni giorno emergano dei dettagli in più due questo è un canale che ha tutto un altro target ma ne parleremo nessuno qua ha voglia di mettere la testa sotto la sabbia come gli istruzzi e far finta di niente tant'è che appunto c'è già un video online dove ho riassunto completamente il mio pensiero che ho cercato di riassumere in questi pochi minuti quindi questo è quanto sono curioso di sapere le vostre curiosità e soprattutto le vostre opinioni per quanto riguarda la formazione che abbiamo analizzato per questa sera e noi ci vediamo in live su Twitch per la live reaction e poi ancora qua per tutti i contenuti post partita ciao a tutti ragazzi buona giornata e forza Juve